E' un pellegrinaggio che da Piazza Cavour finisce fin sopra a Capodimonte, rampicandosi lungo la verticale di Via della Lava. Uno squarcio chiamato Quartiere Sanità. Un pellegrinaggio sì perché in quel sentiero di tufo, come in una memoria vulcanica, c'è una traccia che dal fuoco porta dritto alla cenere di questa città. Dalla passione al patimento senza soluzione di continuità, dalle promesse alle urgenze in questa che è la città dolente. Agguati di camorra, caos cittadino, degrado sociale, sembra il solito eccesso di Bili Urbana. No, tutt'altro. Qui è come un colpo di biliardo. La vita schizza e la politica con le sue parole, i suoi pensieri e i suoi pregiudizi va in buca, anzi in catacomba. Già, bisognerebbe ricordarselo che sotto questi vicoli batte l'anima sotterranea di Napoli, venite ed espiate. La sanità è il purgatorio napoletano. Il nostro pellegrinaggio inizia da un cancello chiuso, guardato a vista da una Fiat Punto, un'autoguardiana dell'aldilà. Che strano, davanti ad un cimitero non è sosta vietata, semmai è sosta blasfema. Siamo in uno dei più importanti attrattori turistici di Napoli, nel bel mezzo del rione Sanità, il cimitero delle Fontanelle. Una storia incredibile di abbandono, di non curanza da parte delle istituzioni, perché il cimitero apre solo in pochi giorni dell'anno. Non esiste un accesso permanente, non è stato valorizzato il sito per i turisti che volessero visitarlo. Una zona che ha un fascino esoterico incredibile e che adesso è solo il cimitero delle speranze dei cittadini napoletani. A pochi passi da noi c'è il cimitero delle Fontanelle. Lei è uno dei residenti qui della zona, ma di turisti ne vede? Intanto, intanto, ne vengono. Però lo toltono nel dietro perché è chiuso il cimitero. Ma è chiuso da tanto tempo? Dicono se ci sono lavori in ripristino, poi non aprono in fin di conto. In effetti una reale apertura permanente non c'è stata? No, non c'è stata. Tipo il mese di maggio, queste cose qua, poi ogni tanto per appuntamento, ma raramente comunque. Questo cimitero è un attrattore turistico, di turisti ne vedete? No, fino adesso niente ancora. Perché? Non ci sa, il cimitero apre, giusto, fanno quello che vogliono loro. Le istituzioni sono presenti, hanno fatto delle promesse, hanno detto che aprirà? No, fino adesso niente ancora. Il cimitero delle Fontanelle ospita le anime cosiddette pezzentelle dalla peste del lontano 1656, luogo di culto e di cultura, crocevia di devozione e superstizione. Di sicuro una meta per un turismo non solo religioso, incastonato in un'area, quella della sanità, in cui si concentra il patrimonio sotterraneo dell'antica Neapolis, con le catacombe di San Gennaro, San Gaudioso e San Severo. Un itinerario turistico che per adesso resta sulla bocca dei politici e non sul basolato di queste strade. Nonostante la recente riapertura della Basilica di San Gennaro, nonostante l'intrigo di palazzi storici e chiese antichissime che attraversa questo quartiere. Qui dove il passato è come imbalsamato e il presente fatto ancora di presenze troppo ingombranti, perché questo è un pellegrinaggio sotto la città e dentro la sua storia, dove siamo tutti fedeli e tutti peccatori. Non aprono soltanto per il motivo di appuntamento di convenienza di una parte politica. Ho sempre fatto una lotta per cercare di farlo in maniera permanentemente aperta. Sono dei promotori della lotta di questo cimitero, delle fondarelle, ma per un solo motivo, non per un problema politico, ma per un problema di sviluppo di quartiere. Non è vero che la sanità e tutto il quartiere Stello-Sangalareno è un quartiere di malavidoso, eventualmente di malaffare. È un quartiere di brava gente, di commercianti, artigianali, industriali, che hanno il senso della disciplina se noi li invitiamo ad essere disciplinati.